buongiorno a tutti video nuovo con lo schermo orizzontale diciamo e non in verticale e niente vediamo come va con questo effetto così e parliamo delle partite di domani perché questo video probabilmente lo vedrete lunedì mattina più o meno e quindi martedì ci sono cinque partite tre di campionato che recuperano appunto la giornata che non si è giocata quell'infausto giorno e due di champions league molto importanti quindi partiamo con le tre partite di campionato e poi andremo a sviluppare a parlare anche di champions allora atalanta sandoria dopo la bella vittoria dell'atalanta sull'udinese vedendo anche che la sandoria poverina ha perso contro di noi ha perso contro il chievo ieri giocando sicuramente molto meglio tutto qua anzi l'altro ieri sabato quindi io direi un bel 1 me la rischio poi genoa cagliari 1x anche perché il cagliari dopo le quattro scopole che ha preso col torino non penso abbia voglia di perdere anche col genoa quindi penso andrà a genoa a giocarsela e cercare almeno di portare a casa un pareggio magari al genoa il pareggio potrebbe stare bene anche in vista del prossimo derby quindi magari giocheranno non facciamoci del male è un pareggio fa bene a tutte e due e poi abbiamo udinese fiorentina con una fiorentina che zitta zitta potrebbe anche pensare di cercare di andare a prendere la sandoria e l'atalanta anche se un attimino indietro però un pensierino ce lo può fare l'udinese per il momento ancora abbastanza non troppo tranquilla però io mi arrischierei un x2 molto arrischiato perché può darsi che l'udinese dopo la sconfitta che ha subito a Bergamo abbia voglia di a sua volta riscattarsi veniamo alle partite un attimino più sostanziose più goduriose per gli altri che la giocano naturalmente per noi che siamo lì tranquilli a vederle magari anche un bene così non ci incavoliamo siamo tranquilli però nello stesso tempo è bello giocarle quindi cominciamo con Siviglia Bayer Monaco e vediamo cosa combina il caro Montella con Ancelotti allora Siviglia Bayer Monaco è partita da tripla anche se effettivamente forse l'x è quella più probabile poi come sempre come vi dico sempre scegliete voi se mettere l'uno o mettere il due non credo nella goleada del Bayer Monaco a Siviglia non credo però la vittoria del Bayern ci può stare così come anche la vittoria del Siviglia non lo diamo per scontato che il Bayer Monaco vada da là fare la passeggiatina di salute perché il Siviglia comunque in Coppa sa farsi rispettare e comunque ha vinto tre Europa di fila quindi attenzione e veniamo a Juventus Real Madrid allora la Juventus in campionato sappiamo benissimo che riesce sempre a trovare il pertugio giusto per vincere le partite qualcuno dice a fortuna qualcuno dice al blasone qualcuno dice ai giocatori in panchina migliori degli altri quindi quando li mette dentro fanno sempre la differenza comunque in campionato loro la Juventus c'è come direbbe Guido Meda in Champions in casa sono imbattuti così dicono è un fortino l'Allianz Arena perché l'Allianz Arena è quella del Bayern l'Allianz Stadium se non sbaglio o lo Juventus Stadium che dir si voglia il Real Madrid fuori casa è sempre temibile ma è giocabile in casa è più dura casa loro si intende io senza né leggere né scrivere direi un bello 1x e se dovessi buttare lì un risultato direi un 2 a 1 forse un 3 a 1 come dissi anche un'altra volta poi fecero 2 a 2 spero di non sbagliarmi non me ne vogliano i tifosi della Juve per me la Juve magari di misura riesce anche a vincere poi deve andare a giocare là perché è là che si gioca la qualificazione qua se anche dovesse fare 0 a 0 potrebbe essere un risultato anche buono attenzione perché poi dopo l'Allianz van bene 2 risultati su 3 e se dovessero andare i supplementari sullo 0 a 0 se segni un gol devono fare 2 loro in quarto d'ora 20 minuti dipende quando segni quindi attenzione che se la giocano per me Juventus Real è bella equilibrata e certo leggerissimo vantaggio del Real Madrid che però non è in super formissima spettacolare come lo era l'anno scorso e nei doppi confronti non si sa mai cosa può succedere la cosa importante è che non facciano l'errore che hanno fatto col Tottenham se dovessero andare 2 a 0 di fermarsi e mettersi in difesa a tenere il 2 a 0 perché sennò rischiano molto di più che non con il Tottenham devono continuare a giocarsela e vedere come va bene abbiamo detto tutto vediamo cosa ci azzeccherò domani domani sera lo sapremo dopo verso le 22 e 30 per le partite di serie A verso le 8 e in quarto e poi vedrò se ci ho preso o non ci ho preso quante le ho prese ciao e alla prossima e vediamo anche come viene questo video messo così